allora ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in questo video ho deciso di raccontarvi di questa bellissima esperienza che è stata dinon questa questo piccolo questa piccola cittadella se vogliamo definirla così infatti in francese viene chiamata cittadelle che si trova nella regione di wallon non so se l'ho pronunciato bene wallonia meglio pronunciarlo in italiano in belgio appunto a un'ora di macchina da brussel e è stata un'esperienza molto molto bella molto interessante di non si è dimostrato si è dimostrata una cittadella ricca di storia e di fascino e quindi ho pensato di portarvi questo video appunto era e ho pensato di raccontarvi un po quello che è stato questo questo questa questa questo viaggio diciamo così vi farò vedere un po il video e vi racconterò io direttamente a voce un po quello che c'era quello che non c'era perché sono clip tutte quante senza audio e quindi ho pensato bene di rimediare in questo modo perché purtroppo l'audio delle clip non era venuto bene si sentiva un molto casino perché c'erano molte persone oltre a me e al gruppetto di amici con la quale sono andato e allora iniziamo col dire che per arrivata di non è arrivato quasi di non c'è un bibi che ti permette di entrare da due parti differenti allora c'è la strada che che va verso sinistra vi fa entrare direttamente da sotto quindi entra un'entrata soprattutto per chi ci abita ecco e invece poi c'è un entrata più turistica sulla destra quindi ci sono le due strade sulla sinistra sulla destra sulla destra quando c'è l'entrata turistica ed è quella che abbiamo fatto noi effettivamente si arriverà a un piccolo insieme di edifici dove c'è l'accesso appunto turistico ora di non è una cittadella che si trova esattamente tutto lo tutta lungo a un fiume se si sviluppa a lungo tutto un fiume che adesso non mi ricordo come si chiama e magari se trovo il numero ve lo scrivo in descrizione del video e questo fiume qui è un bel fiume abbastanza non è grossissimo perché tant'è più che c'è un ponte che collega le due parti della città che si trovano sulle rispettive due sponde però fatto sta che comunque sia si sviluppa un po' lungo il fiume e quindi c'è il fiume ai due lati poi la città appunto e poi ci sono ragazzi delle quasi montagne adesso vedrete dalle clip proprio delle alture enormi delle montagne abbastanza che sembrano montagne ma sarebbero più delle grosse colline proprio perché magari c'è da pensare che come storia geologica e c'è il fiume ha scavato sempre più giù nella roccia formando qualcosa di simile a a quelle che sono a quello che è il grand canyon che si trova appunto in america però in forma molto più piccola perché comunque non sono montane sono delle colline ecco l'entrata turistica parte proprio dalla cima di questa collina e si scende giù con la funivia vi farò vedere tutto piano piano intanto adesso iniziamo con la registrazione con il video intanto per la funivia ci vogliono i biglietti quindi andate alla biglietteria potete prendere il biglietto per scendere con la funivia e nel biglietto è incluso anche un'altra cosa che vedremo dopo se volete includere anche l'altra cosa se no potete solo prendere il biglietto per prendere la funivia e scendere giù e qua era per passare dalla era una volta fatto il biglietto per andare poi verso la funivia ecco e c'erano queste armi questa era una mitralettrici di epoca militare e questo aeroplano sempre di epoca militare perché ragazzi di no è una città molto ricca di storia come vedrete anche nelle prossime clip ragazzi ecco questo è un po una veduta di di non dicevo che come vedrete anche in queste prossime clip c'è molto materiale di epoca militare ma non solo militare delle dei conflitti mondiali ma anche ragazzi delle guerre ben più antiche perché comunque la città una città della molto antica infatti vedete un po le case si vedono in stile abbastanza antico anche medievale infatti è una città della crisale anche diciamo al medioevo se così possiamo dire se non anche prima del medioevo 1300 addirittura è scordato quello che stiamo e no e quindi per questo ci sono cioè ci sono esposte tante armi appunto nelle zone turistiche ma tantissime e ve le farò vedere piano piano delle clip che seguiranno intanto qua possiamo vedere da questa ferma immagine una parte della città del come vedete ci sono tutte le abitazioni le case e sia da un lato che dall'altro appunto ci sono costruzioni anche qua in fondo vedete qui questo è un ponte altissimo che si trovava lì questo è solo un pezzo adesso vedrete bene anche l'altro lato quindi come vedete sulle due sponde del fiume appunto si trova si trova di no e questo edificio qua ragazzi tenetelo ben a mente verso la fine del video capirete perché intanto continuiamo col video questi sono i cavi della funivia e vedete qua prendiamo un attimo indietro ecco poi il fiume continua da qua e vedete questo è proprio lo sperone roccioso sopra la quale ci trovavamo queste sono parti di quello che era il castello una fortezza che penso fosse di epoca tipo medievale che anticamente era anche circondato da un fossato come ogni castello e che si rispetti e tutte queste finestre le qua sono tutte feritoie dietro alla quale c'erano i cannoni e come vedremo anche dopo perché ci sono ancora i cannoni che appunto la bocca del cannone era proprio dentro queste finestrelle qua e sparavano appunto in caso di attacco nemico quindi questo ci va a capire cosa anche come evidentemente appunto la costruzione riva fiume forse anche più recente o comunque fosse ben custodita ben protetta perché appunto c'era questa postazione sovraelevata appunto della quale i soldati mi potevano tranquillamente difendere il villaggio che magari c'era in tempi antichi e questa scalinata che vedete invece è un altro modo per scendere dentro alla cittadelle perché ho appunto c'era la funivia oppure c'era questa scalinata qua però poi magari a scendere ok però a salire sarebbe stata abbastanza abbastanza dura però insomma adesso possiamo proseguire questi appunto sono i cavi della funivia e vedete qua ci sono gli sportellini per scendere qua si vede ancora meglio vedete la funivia un po una parte della cittadelle e qua si vede anche quanti in alto ci troviamo direi abbastanza incredibile ragazzi c'è già così una visuale pazzesca secondo me e questo ecco è l'altro lato come vedete c'è questo per farvi capire che appunto questa cittadelle si sviluppa proprio lungo tutto il fiume lungo tutto questo tratto di fiume vedete più c'è pure questo ponte qua ma proprio particolare questa cosa qua appunto che si sviluppa proprio lungo il fiume lungo tutto il fiume in questo modo qua appunto è una roba pazzesca ragazzi però comunque è un tipo un villaggio perché molto piccolo comunque se andiamo a vedere molto molto piccolo un vero e proprio villaggio appunto come dicevo ma andiamo avanti vedete appunto ok allora adesso vedremo invece la parte della fortezza quello che resta dei castelli questo è quello che resta delle mura metto subito play così vi faccio ben capire questo è ciò che resta delle mura avete quante finestrelle che probabilmente avevano tutto lo stesso scopo ferito e questo invece poteva essere un pozzo anche se come vedete è chiuso e questa è l'entrata dentro la fortezza e qui ragazzi c'era anche la prigione che si trova proprio dietro questa porta le prigioni proprio di epoca medievale guardate però proprio la struttura bella antica mentre da qua adesso ci sono le prigioni ed è qua c'è addirittura una targa vedete queste sono le celle appunto di prigione olandesi e belga che ne funziona dal 1821 1868 diciamo che più o meno questo è quello che è scritto qui ce ne sono giusto due o tre no che le fossero due questo è quella chiusa però vedete con la porta proprio originale antica medievale contatto di finestrella con le sbarre di ferro tutto originale antico ragazzi bellissimo quindi immaginate il carcerato qua dentro sullo specchio questa è la cella aperta ragazzi hanno messo dei manichini c'erano dei manichini un po tutte queste zone per ricostruire un po appunto come erano le persone di quei tempi vedete che c'è la piccola stretta angusta proprio piccolissime ragazzi con proprio un piccolo tavolino e un letto di legno duro quindi immaginate i carcerati già le prigioni di adesso sono comunque scomode ma immaginate ragazzi a quei tempi appunto nel 1800 quanto fossero scomode appunto queste celle e quanto erano piccole soprattutto claustrofobiche incredibile pure qua comunque c'è la porta ovviamente non si poteva entrare c'era uno sbarramento di ferro perché giustamente ci sono ancora tutte le cose originali antiche quindi giustamente vedete proprio la porta antica ancora un'altra cella e qua invece era probabilmente questo qua penso che fosse dove si trovava quella persona che sorvegliava appunto i detenuti che sediva qua e questi qua ragazzi sono tutti i fucili che sono esposti là ragazzi sono esposti un sacco di armi pensate pure appena scesi dalla funivia che c'era un edificio dalla quale si doveva uscire per poi entrare nella sita c'erano esposte delle armi autentiche infatti c'era un cartello che invitava a non toccare perché effettivamente erano delle pistole insomma e qua però avevano tutti questi fucili tutti i recipienti dell'epoca quindi sentiva quello che era il colui che sorvegliava appunto i carcerati che magari anche le chiavi molto piccolo anche qua vedete con tanto di fucili guardate quanti fucili ragazzi tutti originali dell'epoca anche vedete quelle che erano le ciotre che venivano con cui portavano i pasti ai prigionieri tra le varie cose poi ci sono varie altre cose di cui non conosco esattamente l'utilizzo quello che sembra un secchio con mochi per pulire insomma qua ragazzi questa qua è la ghigliottina perché qua c'erano questi metodi di tortura questa era la ghigliottina ragazzi la ghigliottina il baule invece non so esattamente invece quest'altro qua era una specie di sgabbello di legno sulla quale si poggiava il braccio del detenuto e con questa grossa ascia accetta quello che veniva tagliata gli venivano tagliati gli arti infatti c'era una riproduzione di un di una mano con una parte di braccio per far capire appunto quello che era doveva essere una roba orribile ragazzi già la ghigliottina di per sé quindi figuratevi anche questa cosa qua dell'arte quasi come non lo so se era una tortura o comunque una condanna adesso non sono esperto magari se c'è qualcuno di voi più esperto può dire può dire può dire di più però comunque sia penso fosse un metodo di tortura invece la ghigliottina era proprio la condanna a morte non voglio neanche immaginare ragazzi non voglio neanche immaginare nel 1800 come erano questi ambienti qua con tutte le armi di tortura appese questi qua erano busti invece penso appartenenti appunto ai soldati poi presi e messi appesi esposti generano un po qualcuno in giro però ecco questo ragazzi uno dei cannoni ma adesso ne vedrete altri perché era pieno di cannone di pari di cannone questi qui sono quelli più grandi forse che c'erano poi c'era questa stanza dove erano esposti tutti questi cimeli militari tra cui gli armi cibo militare vedete per esempio qua ci sono sia spade e baionette ma anche armi di epoca militare risalente ai conflitti mondiali guardate che armi mitraglie e fucili mitragliette mitragliatrici di quelle proprio pesanti vedete addirittura i colpi del lanciarazzi e dei bazooka ragazzi altre mitraglie il portamunizioni munizioni pure addirittura il lanciarazzi e il lanciagranate tutte e due cioè proprio tutti i tipi di armi possibili granate questa acqua bianca è una granata i berretti degli ufficiali ragazzi poi a seconda di vari gradi ecco qua c'erano le le razioni militari vedete queste scatolette spolette anche queste scatolette erano tutti i cibi che mangiavano i militari praticamente guardate quanta roba questo è lo spiazzale che si trova dietro la mura quella vi ricordate che si è vista all'inizio sul sullo spunto denoccioso con tutte le finestre questo è l'altro lato con tutti i cannoni vedete ancora dentro puntati e questo era tutto lo spiazzale la terra c'erano ecco queste che sono varie palle di cannoni di vario tipo questi sono altri cannoncini ce n'erano assai ecco questo è il cannone che era puntato verso fuori nella finestrella vedete che visuale che avevano ragazzi quindi era ben difesa la cittadella c'è una roba assurda ma era pieno di cannoni c'erano di tutti i tipi anche di pari di cannone questa è la postazione del fabbro ragazzi vedete perché c'era pure il fabbro che magari immaginate in un momento di guerra magari appunto andava a forgiare nuove pari di cannone pezzi di ricambio e ce n'erano anche di pezzi di ricambio ammocchiati da un angolo pezzi di ricambio per i cannoni magari che subivano un danno durante un attacco eccetera eccetera a me ma mi è venuto da pensare magari mentre erano sotto attacco c'era il fabbro che magari si metteva in fretta e furia a forgiare delle nuove armi dei nuovi pezzi di ricambio ci sono ancora tutti gli attrezzi il forno c'è tanta roba ragazzi l'incutine dove veniva abbattuto il ferro che storia ragazzi c'è tanta roba tanta tanta roba queste erano le feritoie per qua c'era questa questa specie di balconata tra virgolette che forse è stata aggiunta dopo questa per permettere ai visitatori di gustarsi meglio il panorama guardate tra l'altro che panorama incredibile incredibile è un po per far vedere insomma questo è sempre l'entrata con i due cannoncini ragazzi era era l'entrata dalla bassa voce perché sto registrando sto registrando di notte sono tornato dal lavoro poco fa e non voglio disturbare i coinquilini quindi parlo adesso a bassa voce così continuiamo quindi qua questa l'ingresso poi c'era una parte nello spiazzare nella quale si entrava dove c'era tutta una serie di stanze questa era la prima dove c'erano le cucine dell'epoca con tutti gli attrezzi originali dell'epoca c'erano le cucine c'erano varie altre stanze che adesso vedrete che probabilmente servivano anche a chi abitava dalla fortezza anche diciamo ai soldati ecco un po questa roba qua c'erano le cucine vedete le cucine dell'epoca alcuni elementi hanno aggiunti per ricostruire e lungo quel corrido c'erano tutte queste stanze una vita anche all'altra qua erano i forni dove facevano i panni dove c'erano tutti gli attrezzi questi erano i dormitori probabilmente dei dei soldati e questa era una stanza piena di alami letteralmente fucili altri cannoni altri panni cannone altri berretti degli ufficiali vedete qua quanti fucili di tutti i tipi tra l'altro con le munizioni un'altra specie di grosso mitraglio non mi intendo di anni se voi magari ne sapete di più le spade le baionette appese sul muro solo di fare epoche queste armi la divisa vedete questa celeste vedete qua pure divise armi pesanti queste sono le baionette vedete che mitraglione questo con tanto di munizioni sotto tanta roba tanta tanta roba ragazzi vedete questo è un altro canoncino penso altre panni di cannone vedete spingarde eh fucili altre armi se voi ne sapete più di me sulle armi come si chiamano scrivetelo nei commenti tipi di fucili spingarde eccetera eccetera munizione delle lanciarazzi ma i fucili erano quelli proprio più numerosi cioè vedete ce ne stanno un bot ora questa stanza qua ragazzi da questa stanza qua si entrava in un corridoio buio buio privo di finestre quindi era veramente completamente buio che ricostruiva quello che doveva essere credo un bunker un bunker e anche eh i passaggi appunto quelle quelle trincee nella quale appunto si trovavano i soldati in tempi di guerra qua penso siamo più durante le guerre militari vedete tutte le ricostruzioni ancora le armi quelle pesanti pesanti e e c'era c'era l'audio che gli proponeva gli spari cioè si sentivano veramente gli spari per far rivivere proprio quell'atmosfera che c'era a quell'epoca e c'era un corridoio con delle scale che erano tutte completamente storte infatti molte persone hanno difficoltà a restare dritti perché erano tutto storto obliquo il pavimento le scale i muri tutto storto proprio per il costruito di quelle che era appunto una trincea un bunker e insomma quello che era un tempo questa fortezza dentro la quale comunque stavamo perché siamo comunque ancora dentro la fortezza e e quindi vi lascio vedere si entrama da qua dove c'era questa ricostruzione un ufficiale in una specie di ufficio da qua si inizia ad entrare in una stanza mezza illuminata dove comunque si sentiva l'audio con gli spari vedete le ricostruzioni di trincee i sacchi i fili spinati e qua vedete completamente buio non si vedeva niente e poi da qua iniziavano le scale storte vedete la maschera antigas di proprio una vera e propria ricostruzione a tutti gli effetti e da qua iniziavano le scale storte infatti bisognava scendere piano essere attenti vedete sono storti i ladini cioè sono storti infatti ho dovuto pure un attimo ecco questa stanza qua era pure tutta storta a voi sembra che stia riprendendo in maniera storta no io ce l'avevo dritta la videocamera però vedete cioè era storto il pavimento storte le scale però sembra che siano storte le riprese ma non è così c'è alcuni però anche difficoltà a camminare l'ambiente è un po' strano vedete tutto storto poi avevo deciso finalmente di scendere dalla cittadella quindi abbiamo preso la funivia questa è una piccola ripresa fatta all'interno della funivia per scendere per farvi vedere un po' con e diciamo una delle cose più belle che abbiamo visto è stato proprio il fiume lungo il fiume c'erano delle imbarcazioni ed è questa la cosa di cui vi parlavo quando ho parlato del biglietto perchè la biglietteria potevate già si può già prenotare per fare appunto la crociera su queste grosse barche come queste che vedete qua dove appunto erano due piani uno all'interno e uno sopra all'esterno con tanti tavoli dove potete anche berevi un drink che ne so fatto sta che appunto avevo deciso di farci una crociera ed è stata una cosa bellissima vedete ci sono le crociere si possono anche prendere barchette e andare diciamo per conto proprio questa è l'interno della barca la parte di sotto vedete quasi di lusso molto carina e qua è la parte di sopra e vedete avevamo iniziato a fare la crociera e man mano che andavamo avanti o indietro nel fiume c'erano mai monumenti vere cose che spiegavano esserci e una delle cose più importanti è la casa dove è nato l'inventore del non della tromba del 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 sax come che si chiama il sax del sassofono l'inventore del sassofono guardate tra l'altro come si vedono questi grossi spuntoni rocciosi in montagne cioè una roba incredibile e e così era così diciamo in entrambi i lati con queste grosse alture e noi stavamo sopra all'inizio quando avevo fatto vedere che abbiamo preso la funivia e questo spuntone che vedete qua ragazzi questo perché c'è quella bandiera là sopra perché come ci aveva detto anche il comandante della barca che era lui che di volta in volta spiegava le cose uno dei dei regnanti di quelli che appunto governava di non non mi ricordo l'epoca mi pare comunque epoca medievale o settecentesca quell'epoca lì si scalò questo grosso spuntone qua roccioso di arrivare in cima infatti c'è pure la bandiera in cima se vedete e per questo misero alla base una placca di bronzo per ricordare questa cosa e ci ha spiegato questa cosa appunto il comandante della barca non so se si può dire il comandante giusto che comunque è un imbarcazione molto più piccola di una nave e vedete vedete la bandiera in cima la bandiera america ovviamente perché siamo comunque pur sempre in belgio questa è una delle cose c'erano anche le chiese proprio in vivrafiume praticamente almeno due o tre chiese questo qua invece ragazzi è un ponte di epoca romana ancora in piedi e dall'altro lato vedete ci sono le persone col kayak perché è appunto possibile andare lì e farsi pure una bella una bella come si dice navigata una bella passeggiata nel fiume col kayak cioè andate là prendete il kayak e potete fare una bella passeggiata nelle acque del fiume noi non l'abbiamo fatto ovviamente perché per mancanza di tempo avevo preferito vedere un po' la cittadella però magari una prossima volta chissà e chissà che magari non vi faccio un bel vlog anche in quel caso là vedremo questo fatto sta questo era il ponte ancora ecco da questa parte qua più o meno da questa parte qua c'è il quartiere dove si trova la casa dell'inventore del jazz e a proposito dell'inventore del jazz di no è piena di sassofoni di sculture di sassofoni di biscotti a forma di sassofono di di tutto e di più fatta a forma di sassofono cioè comunque andavate trovati di tutto è quel ponte quello che avete visto all'inizio quando era ancora sopra praticamente qui sopra perché è qui sopra che stavamo all'inizio questa è la fortezza qua sono le funevie e quel ponte che avete visto quando eravamo qui sopra praticamente quel ponte lì è pieno a entrambi i lati di sculture di sassofono effettivamente e non so se si vede già da qua no non si vede questa è un'altra chiesa che abbiamo visitato anche però non ho registrato niente all'interno perché è un ambiente comunque sacro e da cristiano quale io sono ne ho il rispetto quindi però sono bellissime le chiese qua ragazzi vi consiglio di visitarle e aspettate 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 questa è una piccola panoramica del fiume mentre scendiamo dalla barca alla fine della crocina e l'ultima cosa che abbiamo visto ragazzi è appunto questa qua ma per spiegare questa cosa qua ritorno un attimo indietro a quando c'era la parte panoramica se riesco a fare in modo che metta bene a fuoco no aspettate perché vi devo far vedere ecco qua vedete questo edificio qua ragazzi questo edificio qua si chiama si chiama di F per chi di voi non no per chi di voi penso che tutti la conoscano l'ef l'ef no maison l'ef l'ef è una marca di birra penso che la conosciate giustamente è una marca di birra e praticamente questo edificio qua nasce come abbazia come con appunto convento e poi è diventato un birrificio dove si produce appunto la birra l'ef e attualmente appunto è un museo cioè il museo appunto della birra dove spiegavano un po' come si faceva la birra come veniva prodotta quindi tutta la storia anche un po' della cittadella insomma faceva c'era tanta roba curiosa e è stata l'ultima tappa che abbiamo percorso e c'erano ancora tavoli sedie portacandele diversi elementi che erano appunto quelli del convento dell'abbazia quindi di quando l'edificio era ancora un'abbazia adesso mi risulta sia anche un hotel tra le varie cose e quindi ritornando a questa clip qua questo qua ragazzi è uno dei mobili che stava là originale dell'epoca di quando era ancora un monastero vedete come si vede che è antico con tanto di ferro battuto guardate 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 qua proprio si vede che è di epoca non dico medievale però almeno settecentesca guardate che spettacolo queste maniglie spettacolare sembrano proprio medievale altro che e questo è quello che io ricompendo si vede dalla forma vabbè adesso metto un attimo a fuoco così vedete meglio si vede proprio dalla forma dopo c'è la classica forma del convento guardate che bello tra l'altro molto molto bello i tavole pure sono originali quando era un convento e insomma un po' da qua c'erano le cucine perché appunto c'è la cucina dell'hotel come vi dicevo e si vede proprio dalla forma che comunque c'è ancora quello che appunto era l'abbazia e qua non mi mette stop quando dico io qua diciamo c'erano i tavoli per mangiare per i clienti appunto dell'hotel insomma e e quindi ragazzi è stata l'ultima cosa interessante che abbiamo visto sì abbiamo anche profittato per andare un po' in mezzo ai quartini ma in quel caso lì non sono andato a farvi le cose perché comunque mi sono voluto ottenere un po' anche per me l'esperienza per godervela godervela appieno qui si conclude questa serie di clip però ragazzi ho pubblicato e pubblicherò ancora delle clip registrate dentro il convento sui miei social dove magari spiegherò un po' anche quello che c'era lì se magari volete che me ne parli in un altro video qui sul canale scrivetelo nei commenti e perché no si può fare e e niente quindi così si conclude questa bellissima e interessante avventura ragazzi e perché poi da lì abbiamo visto gli ultimi dettagli e ce ne siamo andati quindi è stata una giornata molto bella interessante e devo dire di Nantes è davvero un bel posto una bella un bel paese che come avete visto è veramente ricco di storia e di fascino e io vi consiglio qualora un giorno vi trovate a passare da Belgio di passare da Di Notte e farvi farci una visita e anche qua perché tra l'altro appunto avrete l'occasione di farvi pure una degustazione gratuita di birra e vi danno anche dei regali poi ovviamente ripeto se volete che mi parli di più di questa parte qua di cui vi ho fatto vedere solo questa clip in questo video ve lo potete tranquillamente direi nei commenti non c'è nessunissimo problema per intanto io concludo qui questa esperienza questo video scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa citadel appunto di Nantes se vi piace se magari un giorno desiderate andarci e niente io concludo qui lasciate un bel pollice se questo video vi è piaciuto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto tenete d'occhio i miei social trovate tutti i link utili in descrizione in modo tale che qualora vado a pubblicare materiale possiate andare a vedere ho già pubblicato qualcosa però pubblicherò comunque qualcos'altro e voilà e niente ragazzi quindi concludo qua questo video grazie per essere stati qua e noi ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video